Uelà, sono sempre io, il vostro cilungazzo con il gran cazzo. Oggi andiamo di nuovo a trovare il Cinesotto. Mi ha dato un incarico, devo affrontare di nuovo la gang vietnamita e comunque... Oh cazzo! Vi ricordate il fatto che nel prossimo episodio affronterò una missione dove perdo tutte le armi? Ecco! È proprio questa! Porca minchia! Vabbè entriamo nella casa del Cinesotto. Ciao, a Cinesò, come va la vita? Wey Sigello, stavo proprio per uscire di casa. Comunque la gang vietnamita ci ha di nuovo teso un agguato, ha messo in ostaggio alcuni dei prigionieri, devi salvarli prima che sia troppo tardi. Aspetta, mi squilla il magnéfono. Pronto. Chi cazzo è che parla? Cazzo, i nostri uomini sono nella merda? Cazzo. Ok. Vai a prendere ciccio pasticcio e ci vedremo tra poco. Sigello. Scusami è una faccenda troppo importante, la gang vietnamita ha messo in ostaggio i nostri uomini. Poi ti chiamo tra una settimana ok? E tranquillo a Cinesò. Tanto le faccende cerco di risolvere io. Tanto siamo amici ormai no. Grazie mille Sigello. Il tuo aiuto è sempre comodo. Ti ringrazio per aver aiutato la tria eloquendosamente eloquendosa a risolvere i loro problemi. Adesso scusami che devo andare, poi ti chiamo tra una settimana come detto prima ok? Ehi Sigello, che minchia ci fai qui? Ho incontrato il Cinesotto mentre stava per uscire di casa. Quindi credo che faremo un bel viaggetto. E invece non faremo un bel viaggetto amico mio. Mi sa che voleremo. Ora armati con i controcazzi, stiamo per affrontare la gang vietnamita. Ovvio che figata sto minigun. Non vedo l'ora di spaccolare il figato a quei vietnamiti schifosi. Che bello che bello che bello. Adesso inizia il divertimento. Ecco la nave. Madonna se adesso vinculo tutti con questo minigun. E ora. All'attacco. Oh cazzarola. Non ci siamo nemmeno avvicinati e già ci stanno sparando addosso. Ma che hanno i satelliti attaccati nel buco del culo? Sigello attento. Madonna se vinculo tutti. Oh cazzo qualcuno ci sta sparando con il lanciarazzi. Cazzo. Stiamo precipitando. Cosa? No. Ma fanculo. Ho perso tutto tranne il mio merdoso coltello. Adesso sto coltello. Me lo ficco diritto diritto in culo. Beh ancora una volta devo improvvisarmi. Serpente solido come nel tanker dei militari. Scendi nella stiva della nave. E cerca di fare meno rumore possibile. Se fai rumore attirerai miliardoliardi di guardie pronte a farti il buco del culo. Benissimo. E la prima arma recuperata è il fucile a pompino e ma pompa. Proseguiamo avanti. Devo muovermi cautelamente altrimenti questi mi fanno il culo. Andiamo e coltelliamo qualche altro stronzo sperando che non mi veda. E che palle. Che fatica scalare sti cazzo di container. Beh dai. Alla fine ce l'ho fatta. Porca puttana se mi gira ancora la testa. L'incidente in elicottero mi ha fatto perdere tutte le armi. Per questo me la dovete pagare vietnamiti schifosi. Et voilà. E un altro stronzo al coltellato. Tiè. Beccate questo. Così imparate a costringermi a usare metodi alternativi. Che vergogna. Si gelo che si lamenta per il fatto che ha perso tutte le armi. E perciò incolpa i vietnamiti. Io gli darei l'ergastolo. In più missile del lancia cazzo in culo. Stai zitto minore pugnante. Che se mi fai scoprire dalle guardie. Questo coltello in mano te lo fico nell'ano anche a te. Capito ergastolano pugnetaro. E tu chi cazzo sei? Guardie. Ciamate i rinforzi. Che un intruso. Prendi che sta pagiotola in culo. E' tutta colpa tua omino di merda. Comunque tatatatatatata baciatemi il culo. Non avete idea che state affrontando il grande cilungazzo con il gran cazzo. Madonna se adesso vi in culo tutti. E comunque cazzo Sigello. Quando è che fai ritorno nella serie cazzeggio di Sigello contro la polizia ergastolante? Sto aspettando con ansia la quinta parte per ergastolarti definitivamente, non ne posso più, ho ergastolato Tommaso Vercello chissà quante volte nei video cazzeggio di Vice City, mentre a te non riusciamo mai a ergastolarti, vedrai che nella parte 5 di Sigello contro Polizia ergastolante ti becchi l'ergastolo definitivo. Sisi 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 ma adesso zitto mino di merda, che hai già parlato fin troppo primi ai gusti, ora non devo farmi scoprire da altre guardie, in questa nave dovrebbero esserci dei prigionieri da liberare, cerchiamo un po' dovrebbero essere da qualche parte. Beh che se arriviamo a destinazione, tra poco ci gustiamo una bella birra al gusto di sperminio, e tu chi cazzo sei? Ragazzi uccidiamo la storia incoglionito. Oh shit, mi sa che sono un tantinello nella merda, copertura assaltata, è arrivata l'ora dell'inculata, adesso tra tatatatatatatatatatatatatacrepateee, io sono il grande cilungazzo con il gran cazzo e non mi dovete provocare, capito? A te ittao sang tuttquant, mo cacchita muort voi e man vost, bepisco un fax truuuunzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizz E mo so cazza cacà. A ta sol metr paur. A piscio. Ficcati sta granatozza in culo. Oh merda è ancora vivo. Cazzo sono morto. Babbi fa niente. X di. Te lo fichi in culo quell'X di. E adesso andiamo a liberare gli ostaggi. Che tra poco mi devo mangiare gli ortaggi. Ok, faccio cagare a rimare. Ma sto a migliorare. Si vede che sono il grande cilungazzo con il gran cazzo. E so pure parlare in napoletanazzo. Grazie per averci liberato. Beh, non serve a niente che tra poco ci toglieremo dal cazzo. Comunque. Se sconfiggi il capo che è al piano successivo saremo liberi. Ok. Benissimo. Vado, l'ammazzo è a riporno. E mi ritorno. Sono un vecchietto che si crede di essere figo con la catana. Non ce la farete mai a sconfiggermi. Sono troppo ganso. Prendete a sto negro demente. Come osi insultare il grande cilungazzo con il gran cazzo? Ti sei scavato la fossa da solo bello mio. Adesso andiamo a spaccare la faccia al vecchietto che si crede di essere figo con la catana. Perché mi chiamo cilungazzo con il gran cazzo e io ce l'ho lungo quanto una catana. Ehi faccia di merda, non sottovalutare il grande vecchietto che si crede di essere figo con la catana. Cazzo comunque mi hai già ucciso. Come cazzo hai fatto? Agah agagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagasta battaglia è durata quanto una scoregia in 5 secondi. Ti ho ucciso in pochi secondi. Bene. Adesso mi lego dalle palle. È stato un piacere. Ciao ciao. Dovrò raggiungere gli ostaggi che ho salvato prima. Il problema è dove sono finiti. Forse è meglio cercarli da qualche parte. Mi sono fatto la bua. Beh andiamo da sti cazzo di ostaggi che ho liberato. Ti siamo debituri amico. Anche se non sappiamo il tuo nome. Adesso ce ne andiamo. Beh ragazzi, dopo che sto ammirando questa alba, ci sentiamo al prossimo episodio con loquendo di GTA San Andreas. Un saluto dal vostro cilungazzo con il gran cazzo e da Capon, ciao!